Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi è domenica 21 maggio 2023. Professore Manzini, abbiamo qui un ex giocatore di calcio, famosissimo, della Nazionale, della Juve, del Chievo, del Milan, Nicola Legrottaglia, che salutiamo e ringraziamo per questa intervista. Grazie Nicola. Grazie a voi, è un piacere essere dei vostri. Sì, siamo sorpresi, piacevolmente sorpresi, e volevamo sapere semplicemente, avere una testimonianza anche sua rispetto a questo evento e anche da quello che è stato per lei la conoscenza dell'evangelizzazione. Sì, intanto questo evento nasce sempre come nascono tutte le belle idee, dal cuore delle persone. Quindi c'è stato un cuore che nel tempo ha meditato di fare questa serata, ed è quello di Marco. Sì, sì, persona gioiosa. Il tramite di questo evento, dove ha coinvolto due persone che lui conosce benissimo, che sono io e Corrado Salmè, e insieme stiamo onorando il cuore di un nostro amico. Ovviamente l'onorare lui significa anche permettere agli altri di farsi delle domande attraverso la nostra testimonianza. Noi non insegniamo nulla, io non insegno nulla, perché non mi rebito maestro di nessuno della vita, ma sono solo un testimone. Posso testimoniare quello che è accaduto e accade nella mia vita, e se posso essere una persona che porta agli altri a riflettere, già lì ho centrato il mio obiettivo. Poi ognuno è libero di ricevere quello che gli viene dato. Come noi siamo liberi di ricevere l'amore di Dio. Se tu lo ricevi, lo vivi. Se non lo ricevi, continui a vivere la tua vita. È una scelta la vita, la libertà. Quindi l'evangelizzazione significa questo, portare una buona notizia. Cioè, in effetti anche questa ulteriore conferma di quello che è l'essenza di questa parola, di questo esempio, è proprio quello che ha detto il nostro amico Nicola. Cioè, attraverso l'esempio, attraverso la disponibilità, la partecipazione, attraverso quindi qualcosa che si trasmette in modo anche quasi naturale tra un essere umano e l'altro, si possono coinvogliare anche sentimenti e appartenenze diverse, no? Assolutamente. Noi dobbiamo creare delle opportunità nella differenza, perché la differenza ti arricchisce. Non puoi pretendere di pensare che le persone la pensino e parlino come te. Certo. Questo è un modo settario di fare le cose, ma Cristo non ci ha insegnato l'essere settario. Cristo ci ha insegnato il vivere determinati principi e valori, che lui ha messo in pratica. Mentre lo vivi, tu puoi parlare poco, anzi, meno parli e meglio è, ma fai testimoniare quello che fai, la tua vita. La testimonianza vale molto più di mille parole, di migliaia di parole che tu puoi dire. E quindi questo è quello che è il segreto del vero cristianesimo, che in tanti momenti è stato bistrattato, è stato evangelizzato in maniera sbagliata. Perché c'è sempre stata un'idea di Dio molto lontana. Sì, molto mediato anche. Un Dio che punisci quando tu sbagli e quindi se non sei in linea con certi comandamenti, con certe regole, non sei degno di... Invece no, è il contrario. Proprio perché tu non lo sei, proprio perché tu non riuscirai mai a raggiungere quell'identikit che tutti dicono di raggiungere, di perfezione per ricevere l'amore di Dio, proprio per quello tu hai bisogno di Dio, perché tu sai che non ce la fai e quindi lui sovviene a queste tue debolezze. E quindi da lì si manifesta la potenza dell'amore che cambia, trasforma la vita della persona. Benissimo. Io direi che le parole del nostro amico Nicola siano fondamentali per far capire e comprendere quello che è l'evangelizzazione, la vera evangelizzazione. Adesso noi ci godiamo questo evento che ha anche quella funzione, quella di trasmettere gioia, speranza e serenità. e anche un messaggio. Esatto. Va bene. Ringraziamo Nicola. Grazie. Ciao a tutti.